Sinergie Moderne Network ha organizzato con la media partnership di Made in Italy, trasmissione televisiva dedicata all'innovazione, un workshop di aggiornamento tecnico sugli ultimi ritrovati e le tecnologie più innovative delle migliori aziende nel campo del risparmio energetico. Nearly Zero Energy Building, questo è il titolo del seminario. Nel contesto di Clean House 2012 a Bolzano e presso il Four Seasons Hotel durante tutto il giorno si sono alternati molti relatori e l'occasione è stata importante per il numerosissimo pubblico, oltre 1700 accreditati e più di 900 partecipanti per avere un quadro più completo della direzione verso la quale il mondo delle costruzioni e risparmio energetico avanzato sta andando. L'importanza che noi accettavamo da questo incontro era quella della maggiore sensibilità per quanto riguarda il comfort ambientale. Nello specifico Alpac si pone come leader nell'isolamento termo acustico del foro finestra e quindi noi cerchiamo con la nostra ricerca e sviluppo di arrivare in cantiere con delle soluzioni già pronte e che affiancano il progettista in fase di progettazione dell'intera struttura dell'edificio. Il nostro prodotto è il monoblocco termo isolante, è un prodotto che va a risolvere determinate problematiche di isolamento, il prodotto nuovo che portiamo è un prodotto ecosostenibile fatto in fibra di legno che va appunto a risolvere determinate problematiche specifiche molto particolari di strutture magari in legno o ecosostenibili che hanno bisogno anche di un prodotto appunto in fibra di legno.